Amiche e amici di YouTube, ben ritrovati sul mio canale per un altro video a tema Sorair. Oggi andiamo a parlare della nuova modalità uscita da pochissimo, ovvero le Rivals, dopo la sigla. Salve, eccoci. Allora, oggi siamo senza ospiti perché, come vi ho già detto nello scorso video, che riguardava invece Puki, Gugli è in giro in vacanza per oceani. E quindi sono qui da solo per parlarvi di questa nuova modalità. Direi anche di cambiare inquadratura, regia, cortesemente, grazie. Eccoci qui. Nuova modalità di cui avrete sicuramente sentito parlare, se così non fosse, lo farò io per la prima volta. Vi battezzerò alla modalità Rivals, che è stata per un po' di tempo in beta, e quindi molti hanno potuto provarla, me compreso, giocarci un pochettino. Ed è una modalità che sostanzialmente, adesso andremo a vedere, va a dare una rinfrescata al gioco e ci propone un gameplay un po' diverso rispetto a quello che siamo abituati su Sorair, quindi la modalità Sorair Pro. Vediamo subito dalla home page di Sorair, proprio che andiamo a prenderci, diciamo, il centro, o comunque lo spazio più che il centro, il maggior spazio della home page, perché il lancio è stato anche importante per quanto riguarda il marketing, visto che sono state utilizzate figure come quella di Piqué e di Zidane, ed è una cosa su cui punta tantissimo l'azienda, quindi vediamo per quale motivo. Andiamo subito a vedere, questo video sarà senza tagli, come al solito facciamo una chiacchierata mentre guardiamo le modalità, come vedete siamo all'interno delle Rivals e qui abbiamo già la possibilità di scegliere in quale partite giocare, perché la grossa differenza rispetto al gameplay classico di Sorair è che voi non giocate su una Games Week, ma giocate partita per partita in uno contro uno, quindi contro un avversario specifico. Poi nella stessa partita potete avere più avversari, ma sempre uno contro uno giocherete, quindi non siete voi contro una serie di utenti e poi alla fine della Games Week c'è una classifica totale. No, qua andate a farvi, match per match, uno sfidone dove andrete a guadagnare dei punti reputazioni che poi vi servono a loro volta per entrare all'interno di una classifica. Però prendiamo una partita che conosciamo, quindi per esempio Atalanta-Frosinone, non quelli della Coppa d'Africa, sono un attimino più complicate, e andiamo per esempio qui subito ad impostare la nostra afformazione, quindi entriamo e vediamo che possiamo decidere quali giocatori scegliere. Possiamo sceglierli tutti, quindi anche volendo uno potrebbe mettere Francesco Rossi, non giocherà mai però. Qua andiamo a sceglierci per dire carne secchi, abbiamo, anche se non si vede benissimo, adesso faccio un trick d'altissimo livello per farvi vedere, abbiamo qua sotto il budget a disposizione, quindi 250 crediti per questa partita, ma il budget cambia di partita in partita, e riapriamo, e ora vedrete che con i miei 46 qua sotto scala, ritolgo, e quindi funziona esattamente come per dire le modalità capped di Sorare Pro. Scegliamo un difensore, si sceglie sempre portiere, difensore, centrocampista, attaccante e un extra, in questo caso il migliore potrebbe essere Jim City, vediamo se ci stiamo con tutti gli acquisti che voglio fare. Qua la scelta potrebbe essere tra Ederson, Koppmeiner e Decateler, io ovviamente sto prendendo giocatori dell'Atalanta perché voglio fare blocco Atalanta, ma potrei anche prendere qualcuno del Frosinone, però secondo me vince l'Atalanta, quindi vado a prendermi Decateler, mio idolo assoluto, poi Lukman, mi restano 43 crediti, e con i 43 crediti scelgo chi è che potrebbe giocare titolare. Adesso parliamo anche di questa cosa delle titolarità, prendiamo a caso, totalmente a caso, Scamacca, anche se probabilmente o gioca lui o gioca Decateler, non lo so. Qui non ho l'indicazione delle titolarità, ma io la formazione posso andarla a modificare nel momento in cui escono le titolarità, quindi le formazioni ufficiali, e appariranno direttamente in questa schermata, per cui per adesso metto questa, poi un'ora prima della partita ritornerò e andrò a fare delle modifiche. Ma andiamo avanti perché vi faccio vedere altre cose nuove che ci sono su questa modalità rispetto a Serer Pro. Quindi arrivo, scelgo il capitano anche qua, classico, bonus del 20% sul capitano, mettiamo Lukman perché è uno che comunque i voti alti li prende, e entriamo in quest'altra schermata dove andiamo a determinare invece qual è la strategia della nostra squadra. E questa è una figata perché è una cosa nuova che va a diversificare un po' il gameplay, perché possiamo scegliere una di queste cinque tattiche, ognuna di queste cinque tattiche si concentra su una statistica dei giocatori, e noi dobbiamo scegliere quella che secondo noi è più probabile che venga completata. Quindi per esempio se scegliessimo Tiki Taka, che sono i passaggi precisi, significerebbe che i nostri cinque giocatori devono fare oltre 130 passaggi, oltre 170 passaggi, oltre 220 passaggi, per ricevere questi punti in più, 10, 20, 40, che sono appunto del... è un punteggio che va aggiunto al totale della squadra. Non mi sembra che questa sia la statistica giusta da scegliere per questo matchup. Probabilmente potrebbe essere tiri in porta, visto che abbiamo Scamacca e Lukman, potrebbe essere una buona scelta. Bastano due tiri per fare 10 punti, tre per farne 20, cinque per farne 40, mettendo due attaccanti, almeno tre tiri li faranno tra Scamacca, Lukman e Decateler, mi immagino di sì. Quindi facciamo continua e scegliamo questa strategia. Abbiamo messo la nostra formazione e qua possiamo andare a sfidare persone a caso. Cioè possiamo sfidare amici, chi vogliamo, gente che ci appare qua nella schermata. Queste sfide non danno niente in più rispetto a una classifica che poi vedremo delle Rivals. Queste sono solo sfide che possiamo fare per divertirci con un'altra gente. Qualcuno ci sfiderà e quindi avremo delle richieste, come nel mio caso, io accetto. Alcuni sono sicuramente qualcuno di voi che mi ha sfidato. Qua abbiamo anche l'elenco di chi seguo io, quindi posso sfidare, non so, Dario per dire, o Gugli. Poi vado in Ranked e qua, se faccio Entra nell'Arena, uso uno di questi ticket che vedete qua in alto e questa Arena è quella che mi dà, come vedete, partita classificata per reputazione, che mi dà i punti reputazione che mi servono per finire dentro questa classifica. Questa classifica al momento non serve a granché, ma sicuramente in futuro verrà utilizzata, perché al momento quello che ci sblocca dei premi in questa modalità è vincere delle partite consecutivamente. Io ne ho già vinta, vabbè, una, non è che fosse particolarmente difficile, basta vincere una e si vince un premio, poi bisogna vincerne tre di seguito. È già due volte che arrivo a vincerne due di seguito e la terza la perdo, una l'ho persa per un punto e un'altra l'ho persa perché sono stupido io. Però ogni volta che si completano queste sfide si apre una confezione regalo Rivals, che è semplicemente un box dove all'interno potete trovare biglietti per l'Arena, carte da gioco, oppure magliette misteriose. Qualcuno ha già vinto delle magliette e anche delle carte da gioco che poi potete utilizzare. Cosa interessante anche da fare in questa modalità è la possibilità di utilizzare le carte che voi possedete. In questo caso, per esempio, in Camerunghine Guinea ho la possibilità di scegliere qualche giocatore. Vediamo chi è, perché non me lo ricordo assolutamente. Ecco, per esempio, potrei giocare con Yongua che mi dà un più 20% perché è una carta gialla. Quindi se voi avete delle carte nella vostra gallery, le potete sfruttare anche in questa modalità per fare dei punteggi supplementari. Più ne avete, più è probabile che vinciate il matchup, vinciate la sfida con il vostro avversario perché chiaramente avete un bonus in più. Quindi io qua andro dovrei andare a schierare tutti i giocatori gialli che ho per cercare di fare più punti possibili. Adesso questi non so nemmeno se saranno dei titolari nella sfida, però in questo modo le ho schierate entrambe e ho un po' più di possibilità. La gialla da più 20%, la rossa 25%, la blu 30%, la nera, non ho la più pari di idea perché non ho mai avuto, no anzi sì, l'ho avuta la carta nera in mano ma non ce l'ho più. Quindi purtroppo mi spiace. Ma non so, la percentuale sarà 40% suppongo. Ma lo potete trovare facilmente. Non sarò io a dirvi la percentuale perché questa non era una video guida ma semplicemente una spiegazione così rapida della modalità per dirvi cosa poi? Per darvi quello che è il mio pensiero su questa modalità mentre chiudo delle finestre che si aprono qua a fianco che non mi permettono di vedere la lunghezza del video. Siamo a 10 minuti e quindi posso chiudere dicendo. Modalità super interessante, il gameplay mi piace un sacco. Per me è più bello del gameplay del Sorare Pro. Proprio intendo lo svolgimento della partita è più interessante per i miei gusti ovviamente. Non sapete che non sono un fan del gameplay di Sorare. Mi piace di più la gestione della galleria, la compravendita eccetera. Questo gameplay mi diverte molto. C'è la possibilità di giocare tantissimo. Oggi è lunedì e abbiamo diverse partite da svolgere. Cioè se uno vuole può stare tutto il giorno sull'app o sul computer a seguirsi queste partite e a fare queste sfide. Quindi grande interazione con la piattaforma che prima non c'era proprio a livello di quantità, di tempistiche per stare sulla piattaforma. Vedo un sacco di risvolti torneistici per questa modalità. Quindi si possono fare dei tornei quasi a livello diciamo competitivo. Vedo la possibilità di magari rendere utili anche questi gettoni per non so comprare i ticket avere magari anche gli stessi box che si vincono che si vincono con l'arena. Serve sicuramente integrare meglio la parte ranked della della modalità e soprattutto cosa che per me non è da sottovalutare diventano utili anche quelle cartes di arreanti T4 e T5 che prima non servivano sostanzialmente a nulla perché nella modalità pro si la potevi usare in 220 però quante volte ti capita di mettere una T4 e una T5 in 220 cioè comunque una volta a settimana due volte a settimana qua come avete visto in Cameron Guinea le mie due carte inutili possono tornare in realtà utile appunto perché mi danno una percentuale in più mi danno la possibilità di fare quegli obiettivi che poi sbloccano dei premi che andando avanti saranno sempre migliori e quando ci sarà la possibilità di essere premiati anche sulla classifica generale allora lì la questione si farà davvero molto molto interessante secondo me quindi un grande bravo a Sorair per questa per questa genialata mi piace molto non so voi che cosa ne pensiate fatemelo sapere nei commenti magari andate qua anche con un tasto mi piace sul video potete anche iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e soprattutto vi aspetto sul telegram Sorair da sogno dove siamo tanti ormai 772 membri ci sono tutti i topic c'è anche il topic delle rivals potete entrare pure lì per scrivere le vostre idee e magari poi possiamo anche arrangiare delle sfide se mi aggiungete su Sorair una lamella ovviamente mi aggiungete mi potete sfidare da lì io cerco sempre di accettare tutte le sfide che trovo dove potete perdere tranquillamente perché vi distruggo alla prossima e buon anno e buon anno e buon anno Grazie a tutti.